Maratea, Praia Mare e Sapri sono le tre località del Golfo di Policastro che hanno ricevuto anche per il 2017 il riconoscimento di bandiera verde per le spiagge a misura di bambino. Tra i requisiti principali le spiagge devono avere acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia pulita per costruire castelli, bagnini, giochi colorati, spazi per cambiare pannolini o allattare e la presenza nelle vicinanze di gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti. Un identikit semplice, quello stilato da oltre 2000 pediatri italiani che dal 2008 svolgono questa particolare indagine. Dunque Maratea, Praia e Sapri risultano essere delle vere e proprie perle nella mappa del mare italiano Under-18 e si inseriscono tra le 134 spiagge scelte in tutta la penisola per questa particolare classifica. Quest'anno ha spiegato il pediatra Italo Farnetani che ancora una volta ha curato il lavoro Per la qualità delle acque e la possibilità di balneazione ci siamo riferiti alle strutture istituzionali e pubbliche italiane, le ordinanze dei sindaci e le rivelazioni delle ARPA regionali che sono le strutture preposte a tali controlli. In dieci anni sono stati consultati 2305 pediatri, a nessuno dei quali è stato corrisposto un compenso economico. L'iniziativa sarà presentata il prossimo 3 giugno durante un convegno a Montesilvano. In questa occasione ci sarà anche la consegna della bandiera verde ai sindaci dei comuni insigniti del riconoscimento.